Oh, eccoci qua tornati su Pokémon Y, random luck! E' a malo, e' a malo, e' a malo! Qualche R di troppo, ma non importa amici, siamo qui su Pokémon Y e la squadra l'ho allenata, certo che l'ho allenata, non potevo andare avanti senza allenare la squadra, ovviamente senza condivido esperienza, perché se no non ricevevano niente punti nessuno, quindi ho preferito allenarli un po' così da soli. Ma il condivido esperienza ora è rimesso e possiamo andare, magari, ecco cambiamo la visuale, ah devo andare a parlare con Serena che mi aspetta al caffè? Sì, ok, grande emulatore, dopo dieci anni che è uscito l'emulatore ho ancora problemi, comunque, eh Pokémon Y è un gioco potente ragazzi, che ci volete fare? Oh, e' Elisio, ma chi c'e' con lui? E' forse Dianta? Devi sapere che Elis è responsabile del laboratorio che ha creato l'Holovox, un dispositivo di videocomunicazione, Dianta invece è un'attrice famosa. Basta, tutto qui quello che hai a dire su Dianta? Andamo bene! Ricordo ancora il tuo debutto, recitavi la parte di una giovane fanciulla, perché mu'è vecchia. Non vorresti recitare per sempre i ruoli di giovani fanciulle? La bellezza non è neallecata solo dalla giovinezza. Alcune donne migliorano come il vino, perché il vino più invecchio è più buono. Capito? Io sarei disposto a spaziarvi a questo mondo in un istante pur di preservarne la bellezza in eterno. Distruggere il mondo per salvarlo. Allora noi umani stiamo facendo bene a buttare scorte di plastica e quant'altro in mare. Ma guarda, ci si rivede, Link? Lascia che ti presenti Dianta, l'orgoglio di Kalos. Ha conquistato il cuore di molti, ma veramente la signora lì con i capelli di argento mi sembra più interessante di Dianta, ma comunque sono gusti personali. E ora qui è la parte in cui dico, è una battuta ragazzi. Però non è del tutto una battuta. Chi siete? Io mi chiamo serena e questo è Link, mi ha sentito parlare. Non devi interrompere una persona mentre parla, permette ti inserisci. No, devi stare zitta, aspetti il tuo turno e poi magari parli. E te ne vai pure, sculettando tra l'altro, eh? Non vorrei dire. Se non sbaglio si possono ospitare anche gli allenatori qui. Ma comunque dobbiamo uscire a percorso 5, no? C'era, sì, c'era trovato qui. Dobbiamo uscire qui praticamente, no? Oh, messaggio. Ciao, Tierno. Però ci stavo anche arrivando, eh? Guarda che bello. Il gate numero 5 per l'imbarco per il nuovo percorso. Ehi! Aiuto! È un malfattore! Tra le altre cose, potrei tornare alla città precedente, a Novartopoli, quella della prima palestra. Ciao. Perché potevo andare nell'altro percorso e prendere un altro Pokémon? Il punto è che c'è un'allenatrice prima che io possa entrare nell'erba e non so quanto è forte. Tra l'altro, eccola un'altra allenatrice con i pattini! Era nel più di un allenamento tra diverse sembrali di Lucario quando all'improvviso... Lucario, che ti prendi? Vuoi conoscere meglio questo allenatore? Hai percepito qualcosa nella sua aura? Rio, casa mia. È sempre alla ricerca di allenatori capaci. Io sono Ornel, dalla capopalestra degli Antaropoli. Se stai collezionando medaglia, prima o poi ci troveremo a lottare insieme. Sono sicura che ci divertiremo. Ciao, Lucario, sì. Oh, erba! Allora. Uno, due, tre. Vediamo a chi ci capita. Non va bene così! Non va bene! Fermati! Uno! Uno me ne basta! Allora, qui ci sono solo orde di Pokémon, mi stai dicendo? Ah, no, stanno qui loro. Bene. Ok, gruppi di Pokémon. Sì, non è che mi interessano molti gruppi, eh. Cristiano? CR7? Tanto per cambiare. Palla ombra, no! Oh, snappiti! Snappiti bello! Mio Dio, falla ombra! Ti faccio diventare tipo erba e poi ti colpisco con perforbecco? Ma, vinta! Facile! Più o meno. Ok, sì. Mi ricaricate i Pokémon? Non mi ha ricaricato! È un pezzo di pezzo! Sì! Oh, Skiplum. Ok, ok. Può evolvere, può evolvere in Jumpluff quando sarà il livello necessario. Ma ora... Oddio, Skiplum si evolve in Jumpluff al livello... Spalanche e petali per assorbire la luce solare. Flutto nell'aria per essere più vicino al sole. Ah, che carino. Devo ammettere che l'allenamento procede molto bene e spero di riuscire a portare Duskal a farlo evolvere e vedere che cosa succede. Ok. Però io me ne salto fuori con rimbalzo. E poi tu fai quello che devi fare. Eh, dai però! Evita l'attacco! Ma dai! Ancora? Ecco, Sonic Boom mi prende perché... Porca miseria, porca. Franca, vai un po' un attimo in campo. Ah, che succede qua? Devo andare al maniero? Ok, allora vado al maniero. Ah, Shana! Sei tu, che bello! Rivedere gli amici! Questo apparteneva a una famiglia nobile? Sì, un po' me lo aspettavo, eh. È un po' spoglio, fine della storia. Non ha niente a che fare con la mega evoluzione. Eh, già. Ma che sarebbe la mega evoluzione? Ecco, era uno che non ha capito niente di tutto quello di cui si ruota attorno questa Kalos. C'era Vulnero Polizza? Vabbè, questa... Se giocassi VG, sì, potrebbe tornare utile. Ma non c'è niente qua! Andiamo un po' a percorso 7. Shana, però... Ah, ecco. Ok, ho fatto Shana, tranquilla. Link, guarda, è uno Snorlax! Che bello! C'è anche la pensione Pokémon che non si può usare in questi giochi. Cioè, in Nuzlocke. Guardalo! È una vera e propria montagna! È impossibile attraversare il ponte! Non è Pokéflauto, vero? L'ho dato via. Beh, diciamo pure che il padrone del palazzo se l'è preso. E cos'è questo Pokéflauto? È un flauto in grado di risvegliare i Pokémon. Dobbiamo andare alla Reggia Aurea. Sul percorso 6... Ah, ecco perché! Battista? Posso passare? Neanche ciao, mi dici? L'ingresso costa mille a testa. Si paga? È certo. Chi è ricco vuole diventare ancora più ricco, ovvio. Funziona così, purtroppo. Restauro e manutenzione, almeno credo, sì. E intanto noi siamo più poveri di mille. Bello però, eh. Mi piacciono questi ghirigori e tutte cose, eh. Andiamo. Hello? Noi siamo dei ragazzini. Che cosa succede? Ebbè è finito! Il mio meraviglioso Furfrù, oh! Il mio piccolo dolce Furfrù è sparito! Ehi Link, hai sentito. Cerchiamolo anche noi. Se uno dei miei Pokémon sparisse, sarai disperato. E levati. Oh, il mio dolce Furfrù è sparito! Andiamo a cercarlo? Dovrebbe essere qui dietro? Non lo so. Ah! Bello! L'eroe con Palpitod, Golurk e Ibuy! Bello, eh. Davvero bello. Vabbè, tu dai un'occhiata nel giardino, però. Non è che mi devi interrompere ogni dieci passi, Shana. E questo... Reshiram! Wow! Per quale ragione? E troviamo Taglio. Bene. Ma mi interessa trovare Furfrù più che... Ciao. Non ti spaventare, cane. No, non andare via. Non correre via. Ah, Shana. Aspetta, la prendo io, eh. Tu stai buona. Dobbiamo portarlo alle siepi che formano un vicolo cieco. Ok. La Shana si mette qui, no? Eh, voglio, vediamo che fa. Lei, lei si mette lì. All'incrocio. E noi ci mettiamo qui. Perfetto. Questo Furfrù. Ormai è catturato. Oh, Furfrù mi ha tornato Furfrù. Oh, se adesso ti vuoi trovare il mio furfoloso Furfrù che ho mi ha tornato con la vera fortuna. Ok. Ok, siamo nell'erba. Cerchiamo un Pokémon. Chi troviamo? Ah! Starmy! Hai capito, Starmy? Allora. Era assalto, vai. Scegliamo un po', Starmy, eh. Carezza Crush! Bellissimo! Vai, ok. Possiamo provare a catturarlo. Oliofilizzazione fa male! Non tanto, non tanto. Andiamo. Ho ancora qualche Poké Ball, ma ho anche le Mega Ball. Nel caso. Ah, ci vuole la Mega Ball per Starmy. Ci vuole però mezzo. No. Vai! Mega Ball! Perché ha vento argento. E potrebbe farmi molto male. No, è andato Kappa. È andato Kappa. Presto, bene o male. Oh mio Dio, Patrick, come sei originale, Andre Link. Hai chiamato una stella Patrick. Quindi la cattura del percorso 7 sarà sto coso qui addormentato. Eh, che devo fa? Va bene pure così, eh. Per carità. Sì, c'è il Poké Flauto. Sì, toh. Vai, suona. Fammi sentire sto Poké Flauto, dai. Oddio, cos'era? Chingling? Totalmente proprio che non c'entra niente Chingling. Comunque, parte poi Chingling a quel suono con la campanella. Quindi dove l'ho preso Chingling non lo so. Comunque. Ah, brutto colpo. Ok. Allora ha senso. Ha un po' di senso. Oh, ok. Dico che sta succedendo. Si è frizzato tutto. Ok, perfetto. Ah, ma il comune è mezzo Gaudio, eh. Ah, rifallo un po'. Rifallo, mo'. Rifallo, rifallo. Fallo, rifallo. Oh, non lo può più fare perché non... Siamo pari. Cosa dividi che non c'è niente da dividere? Ignorante. No, 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 no. Ok, ok, ok. Ho sempre paura con ste mosse forti, no? Sapete com'è. Uso anche le Pokéball tanto. E che fa meglio la Pokéball della Megaball? Ma io non lo so. Ma che mondo è questo? Ma che mondo è? Guarda, il nome su un piatto d'Argenzio me lo servi. È femmina, quindi si chiama Lucy. Sì, perfetto. Attraversiamo il ponte per nuove avventure. Sì. Ah, dai. Eccoli. Eh, vabbè. Che vogliamo fare? Allora, il video termina qui. Wow. Mi sono successe di cotte e di crude. Nel prossimo episodio, assolutamente la palestra Pokémon number two. E... Speriamo di non perdere nessuno lungo la via. Sarebbe davvero un peccato perdere... Beautyfly. Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Ah, 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 ah